Ma sicuramente è un'occasione molto gradita e molto importante essere qua nella regione Sicilia e quindi l'opportunità che ci dà la polisportiva di essere qui a Palermo è molto molto importante perché sicuramente è necessario coniugare l'attività dei giovani che sono il motore, che sono il futuro di quello che poi è l'attività della squadra assoluta. Io in quanto direttore tecnico di squadra nazionale assoluta penso che sia importantissimo che i giovani siano ben formati, abbiano le giuste attenzioni per poter poi essere i protagonisti del futuro. Ora la stagione 2013 si è conclusa molto molto bene a livello nazionale dove abbiamo avuto sicuramente come squadra assoluta un'ottima partecipazione al campionato europeo di Vasca Corta. Veniamo dal campionato mondiale di lunga che era stato fatto a Barcellona in estate dove abbiamo comunque ottenuto buoni risultati ma devo dire il campionato europeo di Corta con tutte le dovute attenzioni con le quali vanno presi una rassegna continentale comunque ha dato delle ottime indicazioni. E questo devo dire anche a livello giovanile, la nostra squadra nazionale giovanile ha partecipato adesso al 23 di dicembre a una gara in Ucraina dove lì pure ha ben figurato. Per quanto riguarda l'attività nazionale, l'attività nazionale è in ottima salute e in particolare devo dire anche la Sicilia comincia di nuovo ad essere non soltanto legata a eventi sporadici come potrebbero essere Luca Marin e lo stesso Gianluca Maglia o tornando un po' indietro nel tempo Pier Maria Siciliano. Quindi sicuramente non sono soltanto occasioni ma vediamo che il movimento si sta strutturando in una maniera molto più completa e armonica. Questo sicuramente è legato anche al fatto di iniziative come questa qua dove si vuole dare l'opportunità di confronto agli atleti migliori della regione con situazioni di allenamenti collegiali ma soprattutto anche si vuole dare lo spunto tramite la possibilità di confrontarci con noi dove noi metteremo a disposizione dei colleghi, dei tecnici, le nostre esperienze per far fi che possa essere ottimizzata la loro preparazione e i modi in cui possano sviluppare e trovare i talenti opportuni. Che tipo di parametri andate a ricercare? Che tipo di talento vi serve? In questi giorni attuando questo collegiale che fa parte di un percorso che è già attuato da tempo con la Federazione Italiana Nuoto che va sul territorio regione per regione a sperimentare e a incontrare i nuovi ragazzi, i ragazzi del futuro che rappresenteranno il nostro paese nel futuro. Baderemo soprattutto a quelli che sono gli aspetti tecnici e gli aspetti che molto spesso vengono ahimè trascurati per ragioni di tempo, per ragioni di spazio. Quindi non sarà un incontro finalizzato al volume di lavoro e alla quantità ma soprattutto alla qualità, ossia ad aspetti, vado nello specifico perché non potrei altrimenti farle, fare un'esatta definizione, un'esatta descrizione. Baderemo un po' le partenze, vedremo un po' come sarà il gesto tecnico in ciascuno degli stili che i ragazzi si troveranno ad effettuare nel corso dell'allenamento. Le virate è un altro aspetto importante e tutte quelle situazioni che, come dicevo prima, sono momenti altamente significativi per la ricerca della prestazione ma che ahimè vengono difficilmente individuati nel corso di un allenamento quotidiano. I nostri tecnici di riferimento qui in Sicilia sono sicuramente all'altezza di sviluppare tutto. Ecco che un incontro di questo tipo può servire come spunto, come qualche cosa in più che gli si dà per poter far sì che poi vengano applicate costantemente e quotidianamente nel corso del lavoro.